Era il 17 aprile scorso, c'è dire 4 mesi e 8 giorni addietro, quando Gela si strinse attorno alla propria squadra di calcio al fine di conquistare la Serie D. E conquista fu, dopo un campionato esaltante e un testa a testa con la rivale sancataldese, gli uomini in biancazzurro ottennero la promozione. Finalmente il Gela approdava in un torneo semiprofessionistico dopo 4 esaltanti salti di categoria consecutivi. Ieri a distanza di 4 mesi e 8 giorni tutto è finito e a quanto pare definitivamente le nubi dense delle ultime ore hanno prodotto burrasca. Il consiglio di amministrazione del club, presenti il presidente Francesco Tuccio, i consiglieri Lucio Antona e Gidio Alma, ha deciso di mollare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile all'inadeguatezza dello stadio Vincenzo Presti di Contrada Giardinelli, che ha determinato, oltre ai gravi danni sportivi, anche gravissimi danni finanziari a causa del fallimento totale della campagna abbonamenti e delle sponsorizzazioni, in quanto nessuno, si legge in una nota della società calcistica, è in grado di dare risposte certe a quanti chiedono rassicurazioni che il Gela giocherà al Presti le partite casalinghe. Comprensibile e noto a tutti che i tifosi gelesi soffrono maledettamente di attacchi d'ansia. Analizzata dunque la situazione generale e in primo piano quella dello stadio Presti, i cui lavori sul manto erboso non sono ancora cominciati, con le conseguenze sportive ed economiche che si stanno riverberando su questa stagione, hanno avuto un ruolo determinante nella decisione presa all'unanimità di lasciare il calcio. Chiunque volesse prendersi carico e cura del Gela, sostituendo in toto l'attuale proprietà, può farlo attraverso il sindaco al quale verranno consegnate le chiavi della società. Se malauguratamente non dovesse verificarsi nessun avvicinamento in seno alla società, già a partire dalla prima gara di campionato, prevista per domenica 4 settembre, il Gela non si presenterà fino alla radiazione. I tifosi che hanno già acquistato l'abbonamento saranno rimborsati e tutti i giocatori da ieri sono liberi di trovare un'altra squadra. Chiediamo umilmente scusa a tutti i tifosi giolesi, chiude la nota del club. Da ieri la città ha perso un patrimonio, la maggiore espressione sportiva. Un finale chiaro che nessuno si aspettava, ma adesso ci chiediamo cosa accadrà. I giocatori dove andranno? È il tecnico? È il direttore sportivo? I giocatori credo, mi auguro, si accaceranno presso altre squadre, anche perché ora non è che sarà particolarmente facile. Non lo so, le squadre già sono quasi tutte sistemate, però penso che potranno trovare sistemazione altrove. Per quanto riguarda il tecnico la stessa cosa, per quanto mi riguarda io dopo questa vicenda ho chiuso con il calcio. Perché lavorare da 16-17 anni in varie squadre e avere l'occasione della vita, cercare di raccogliere i frutti dopo tante sofferenze in una piazza così importante come Gela, e finire in questo modo è una batosta e quindi per il momento ho deciso che il calcio smetta. Capisco che è una cosa veramente assurda, atroce per tutti, per la città, veramente non ho parole, però non posso fare commenti, non mi va di fare commenti, prendo solo atto di quello che mi ha detto il Presidente. Ieri sera credo che la maggior parte sia andata via e stamattina saranno andati via tutti, però fermo restando che rimangono sempre tesserati del Città di Gela, fino a quando non ci sono trasferimenti e quando altri restano sempre tesserati Città di Gela.